Ma quanti papà! Auguri! Auguri nel vostro giorno! Chiedo per voi la grazia di essere sempre molto vicini ai vostri figli, lasciandoli crescere, ma vicini. Vincini, eh? Loro hanno bisogno di voi, della vostra presenza, della vostra vicinanza, del vostro amore. Siate per loro come San Giuseppe, custodi della loro crescita in età, sapienza e grazia. Così Papa Francesco ha concluso la catechesi dell'udienza generale di questa mattina in Piazza San Pietro, davanti a più di 50.000 fedeli da tutto il mondo. Nel giorno della festa di San Giuseppe, il Papa ha dedicato la sua riflessione allo sposo di Maria, modello dell'educatore, che custodisce e accompagna Gesù nel suo cammino di crescita in sapienza, età e grazia. Partendo dall'età, il pontefice ha ricordato che Giuseppe ha allevato Gesù, preoccupandosi che non gli mancasse il necessario per un sano sviluppo, insegnandogli anche il suo lavoro. L'ho poi educato alla sapienza ad ascoltare le sacre scritture, accompagnandolo nella sinagoga, e infine alla grazia, che in Gesù era però già presente. Ma sarebbe un grave errore, ha spiegato Papa Francesco, pensare che un padre e una madre non possono fare nulla per educare i figli a crescere nella grazia di Dio. Grazie a tutti.